Io credo che l'alimentazione per un giovane è fondamentale, è fondamentale prima di tutto per la crescita sana, è fondamentale soprattutto per affrontare uno sforzo fisico importante. Io personalmente prima di una partita mangio molta più pasta, molti più carboidrati, bevo molta più acqua perché comunque per affrontare una partita dove gli sforzi sono veramente enormi abbiamo bisogno di zuccheri, quindi cercare di consumare più zuccheri. Ma penso che la cosa più importante, il consiglio che posso dare a un giovane è il dopo la partita perché l'integrazione dopo è fondamentale, durante una partita si perdono tantissime energie, tantissime forze e avere l'opportunità per poter mangiare anche un piatto di pasta a fine partita sarebbe l'ideale. Se non c'è la pasta, una pizza o un dolce va bene uguale. Controllate molto di più il dopo perché è quello che ti permette di recuperare meglio.